È stato firmato nella sede del Comitato Regionale Veneto LND-FGC il protocollo che dà il via alla realizzazione del nuovo centro di formazione federale a Noventa Padovana. Un progetto iniziato ancora nel lontano 2015 quando i vertici del comitato individuarono nel centro sportivo noto come Noventello la sede ideale per creare il primo centro federale del Veneto. Dopo tante difficoltà e una lunga attesa è arrivato il via libera per i lavori di risistemazione dell'impianto che verranno condotti in parallelo dalla LND e dal comune di Noventa Padovana. Il Comitato Regionale Veneto è il secondo in Italia, era anacronistico che non avesse il centro di formazione federale. È stato un periodo molto lungo, con la collaborazione e con la perseveranza anche dell'amministrazione comunale siamo riusciti a portare in porto questo progetto. Un progetto importantissimo sia per la dislocazione geografica del sito sportivo sia proprio anche perché facilmente raggiungibile da tutti, dal comitato, dalle società, sia anche per la bellezza del suo impianto. Un campo in erba naturale bellissimo, un campo in erba sintetica che diventerà stupendo. Un centro con la clubhouse e con l'aula anche per ospitare convegni, ospitare situazioni di formazione e di informazione.